20 euro per il voto scandalo in comune, terremoto giudiziario a Torre del Greco per le elezioni amministrative 2018. Voti comprati con soldi ma anche con pacchi Unicef o la promessa di un lavoro. Coinvolti due consiglieri comunali, uno è poliziotto. Il sindaco intanto dice che ha denunciato le pressioni. Furbetti in ospedale, il patto tra medici. C'era un accordo tra il personale sanitario per timbrare il cartellino ed assentarsi dal lavoro all'ospedale di Sessa Orunca in provincia di Caserta. Due anni di indagini, il 28 finiscono sotto accusa decisive le intercettazioni e le immagini delle telecamere. Fiumi di droga nella Valle dell'Irno, maxi operazione dei carabinieri che hanno smantellato due gruppi criminali che gestivano il traffico di cocaina e hashish. Eseguite nove ordinanze cautelari del Tribunale di Nocera Inferiore, ai vertici delle bande, due giovanissimi. Sciopero del voto per salvare l'ospedale a Sant'Agata dei Goti. Nel Sagno non si placa la protesta contro la chiusura dell'ospedale. Prosegue il presidio in catene e lo sciopero della fame dei manifestanti. Saranno restituite le tessere elettorali. I sindaci intanto incontrano il prefetto di Benevento. Pd verso il voto ancora tensioni. De Caro i suoi fedelissimi, petito e festa, disertano l'incontro. Con il segretario regionale annunziata che avverte fuori chi si schiera contro il partito. Farina accusa l'ex sottosegretario una provocazione la richiesta di primarie. Assalto al Carpi, la strega ci prova. Stasera il turno infrasettimanale di Serie B, il Benevento al Vigorito. Cerca di riprendere la corsa dopo il pari di Ascoli. Salernitana sul campo dello Spezia dopo le contestazioni. Stasera alle 23, il dopo gara in diretta su 8 Channel. Buon pomeriggio, rieccoci con l'informazione regionale del canale 696. Abbiamo seguito insieme i titoli e come avete sentito in apertura c'è il terremoto giudiziario che si è abbattuto sul comune di Torre del Greco. 20 euro per ogni voto. E scandalo in comune succede appunto per le elezioni amministrative. Ci vogliono vedere chiaro gli inquirenti del 2018. Voti comprati con soldi ma anche pacchi Unicef piuttosto che la promessa di un incarico di lavoro. Coinvolti due consiglieri, uno di loro è Poliziotto. Intanto il sindaco dice dice ho denunciato le pressioni. Voti in cambio di denaro durante le elezioni amministrative del 2018 comprati per somme tra i 20 e i 35 euro. Lo hanno scoperto i carabinieri di Torre del Greco che hanno eseguito 14 misure cautelari emissi dal GIP di Torre Annunziata. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio elettorale, voto di scambio elettorale attentati contro i diritti politici del cittadino, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, favoreggiamento, detenzione illegale di armi da sparo, comuni e da guerra. I due consiglieri coinvolti sono Stefano Abilitato agli arresti domiciliari e Ciro Piccirillo per il quale è scattata la misura di divieto di dimora in Campania. Il primo avrebbe partecipato alla gestione delle assunzioni dei netturbini che avrebbero beneficiato di un impiego a tempo determinato per il consorzio GEMA tramite l'agenzia interinale Dadif Consulting e lo sfruttamento di garanzia a giovani a pochissimi giorni dalla corsa alle urne. Il ruolo del secondo, un poliziotto, è legato principalmente alla rivelazione dell'inchiesta agli indagati. Stefano Abilitato ha chiuso l'ultima campagna elettorale di Torre del Greco collezionando 927 preferenze. Brocher assicurativo, già consigliere comunale ex Forza Italia, era candidato con la civica al cittadino a sostegno del neosindaco Giovanni Palomba. Ciro Piccirillo, invece, è al suo terzo mandato consigliare consecutivo. Tra gli indagati figura anche Domenico Pesce, presidente Unicef Napoli, accusato di aver comprato voti in cambio di pacchi alimentari con Marchio Unione Europea tramite una ONLUS. C'era un accordo tra i medici per timbrare il cartellino ed assentarsi dal lavoro durante l'orario di servizio all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Siamo in provincia di Caserta. Lo hanno scoperto i carabinieri con intercettazioni e telecamere piazzate nei punti strategici della struttura al termine di indagini avviate già dal febbraio del 2017. 28 gli indagati, 18 dei quali dirigenti, tra infermieri e amministrativi su disposizione della procura, i militari della stazione di Vairano e Teano, hanno notificato 18 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria ad altrettanti indagati, quasi tutti medici. I riatti contestati sono associazioni a delinquere finalizzate alla truffa, ai danni dello Stato, false attestazioni che riguardano soprattutto i medici e singole ipotesi di truffa. E non si schiarisce il mistero sulla morte di Stefania Fraiasso, l'anziana trovata senza vita nel suo letto a Napoli, particolari nel servizio di Paola Iandolo. La morte di Stefania Fraiasso resta ancora avvolta nel mistero. La 76enne di Napoli è stata trovata morta in casa, imbavagliata e legata sul letto. I familiari sono disperati e chiedono giustizia, vogliono sapere la verità. Ieri è stata organizzata una fiaccolata a cui hanno partecipato migliaia di persone. Nessuno si spiega cosa sia accaduto. Il parco dove viveva insieme alla sua famiglia ci sono persone tranquille e non si sono mai sentite brutalità simili. Noi abbiamo perso la nostra mamma, loro hanno perso un elemento della comunità a cui volevano bene perché qua siamo una famiglia, ci conosciamo gli uni con gli altri e ci vogliamo bene gli uni con gli altri. Hanno deciso le amiche di mamma, le persone del quartiere, fare questa fiaccolata, scuso il detto corteo, questa fiaccolata perché ha dato voce per dare giustizia a mia mamma, perché queste persone che stanno qua non si danno pace come noi, perché non è mai successo nel nostro quartiere una situazione simile e hanno paura che si possa ripetere questa situazione. Quindi stiamo lottando e lotteremo fino all'infinito per sapere chi ha ucciso nostra mamma. Una persona brillante, una bellissima donna, mamma, nonna, tutto, hanno fatto una cattiveria, ma lo pagheranno. E' una bravissima donna e purtroppo quello che ha subito è stata una cosa bruttissima. Abbiamo brutti ricordi tutti, tutti, e siamo coinvolti tutti, tutti in quartiere. Siamo tutti scioccati e dobbiamo trovare, invece di perdere sempre tempo con queste interviste, cerchiamo di risolvere il problema, perché secondo me è quello che dobbiamo fare. No sempre tutti i giorni, tutti i giorni queste interviste. Quello che ci vuole è trovare gli assassini, punto. E adesso parliamo dello sciopero dei trasporti. I dipendenti EAB hanno incrociato le braccia per 24 ore. Giornata da incubo a Napoli, area vesuviana, anche nel rispetto delle fasce di garanzia. Il braccio di ferro con la regione intanto va avanti, senza tregua. Rossella Strianese. Nuova giornata di agitazioni EAB, con pesanti ripercussioni sul trasporto pubblico partenopeo, in particolare sulle aree flegree e su quelle del vesuviano. Dopo la giornata di passione dello scorso 8 marzo, ritornano i disagi per la mobilità pubblica in campagna. I dipendenti EAB hanno avanzato rivendicazioni di carattere salariale, che l'azienda regionale, guidata da Umberto De Gregorio, reputa irricevebili. Nonostante le parti si siano incontrate, sindacati e dirigenza non hanno raggiunto un accordo. Da qui la protesta di oggi. Lo sciopero, indetto dai sindacati UGL, Faisa e Confail, durerà 24 ore, pur nel rispetto delle fasce di garanzia a tutela degli utenti. Ma non sono mancate le polemiche. Il sciopero sia un diritto del lavoratore, è una cosa al di là del disagio che creiamo agli utenti. Purtroppo noi abbiamo solo questo motivo, questo diritto di fare sciopero. Ci dispiace anche per gli utenti, è una cosa che a noi dispiace veramente. Con orari che ritardano treni, pullman affollati e tutto. Sembra un paradosso, ma sembra non avvertirlo proprio questo sciopero, perché è quasi sciopero tutti i giorni. Questo sciopero è sbagliato, è vero che senti la parola. Quando non si può fare uno sciopero, per alcuni motivi banali, e poi scendere su motivi professionali. È assurdo. Ci avranno pure i loro buoni motivi, ma credo che non è che loro ricavano qualcosa da questi sciopero frequenti che portano solo danni all'utenza della circunve su piano. Perché qui a volte gli scioperi si fanno, però nessuno sa niente. Poi veniamo la mattina e c'è lo sciopero, per vedere, scrivono una carta, la mettono da qualche parte e li rimane. E adesso ci spostiamo nel Sannio. Due colpi di fucile sono stati esplosi stanotte contro un'agenzia di scommesse e una sala slot nei pressi della stazione ferroviaria centrale nella città di Benevento. Un attentato intimidatorio in piena regola ad accorgersi di cosa era accaduto è stato il titolare dell'attività che ha notato sette fori sulla sara cinesca. I proiettili esplosi con un fucile caricato a pallettoni hanno perforato la porta in ferro, ferro sfondato, vetro blindato, e hanno colpito anche un grosso televisore all'interno dell'agenzia di scommesse. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della Polizia di Stato. E ancora cronaca, ci spostiamo nel Salernitano. Due gruppi criminali che inondavano la Valle dell'Irno di Cocaina e Ashish, nove le ordinanze cauterari del Tribunale di Nocera Inferiore, particolari nel servizio di Giovanni Battista Lanzilli. Un fiume di droga che dall'Interland napoletano arrivava fino alla Valle dell'Irno, ridosso delle province di Salerno e Avellino. Sono nove le ordinanze cautelari del Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito di un blitz condotto da Procura e Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. Due gruppi organizzati. Le attività hanno consentito di disarticolare due piazze di spaccio importanti, una localizzata su Acquarola, una frazione di Mercato San Severino, e l'altra su Siano. L'organizzazione delle due piazze era tale da coinvolgere ovviamente in turni i vari pusher e contemporaneamente anche i diciamo corrieri. Dopo poche settimane di attività investigativa attraverso lo strumento preziosissimo e insostituibile delle intercettazioni ambientali e telefoniche si arriva immediatamente a ricostruire uno scenario. Questo è segno sicuramente di una diffusione endemica che è testimoniata anche dal fatto che non c'è più fidelizzazione da parte degli acquirenti che senza problemi una volta che vengono fermati col grammetto che hanno appena acquistato fanno i nomi tranquillamente dei loro spacciatori. Veri e propri film di droga insomma nonostante i sequestri ripetuti anche consecutivi insomma purtroppo lo stupefacente non manca mai. Sì, in entrambi i casi. Certo in un caso noi abbiamo dei sequestri che non abbiamo avuto esitazione a fare ogni volta che abbiamo avuto l'occasione importanti anche sul piano economico ma immediatamente già il giorno dopo si rimettevano a prendere contatti con i loro fornitori per fare una nuova fornitura dello stesso quantitativo. E adesso ci spostiamo di nuovo nel Sannio andiamo a Sant'Agata dei Goti dove non si placa la polemica per la chiusura dell'ospedale, le catene, lo sciopero della fame ora i manifestanti stanno restituendo anche le tessere elettorali. Hanno aderito in tanti alla protesta del certificato elettorale è l'ennesima forma di lotta che gli attivisti del Comitato Curiamo la Vita hanno messo in campo per salvare l'ospedale di Sant'Agata dei Goti dallo smantellamento. Da sabato sono in presidio permanente in catene davanti al Sant'Alfonso due delle attiviste sono in sciopero della fame e ieri hanno ribadito con forza le loro ragioni in una manifestazione che ha fatto registrare grande partecipazione e le testimonianze di tanti cittadini. Lo scatolone per la consegna delle tessere spiegano le attiviste Sara qui sotto il nostro tendone fino a domenica. Come forma di protesta abbiamo chiesto la consegna del certificato elettorale le signore prima sotto al gazebo mi diceva signora veniamo domani anche io voglio protestare perché non è possibile che ci tolgano il nostro ospedale era una nonnina. I sindaci del comprensorio dopo la manifestazione si sono riuniti per elaborare un documento comune da sottoporre all'attenzione del prefetto di Benevento. Una battaglia che va condotta insieme ai cittadini i colleghi sindaci hanno voluto nel confermare il sostegno al documento che ho già trasmesso e prodotto alla sua eccellenza il prefetto di Benevento o vi è chiarezza definitiva al riguardo o altrimenti le preoccupazioni che hanno i nostri concittadini che sono anche preoccupazioni nostre potrebbero tranquillamente sfociare in forme manifestazioni non più controllabili. E proprio il sindaco di Sant'Agata Carmine Valentino ha poi avuto un duro confronto con il deputato 5 Stelle Pasquale Maglione. Se la colpa è del commissario De Luca rimuovetelo ha detto provocatoriamente la scelta è del ministro della Salute Grillo che può assumere quando vuole questa decisione. Adesso apriamo la pagina della politica verso le amministrative di maggio De Caro e i suoi fedelissimi Petitto e Festa ieri ad Avellino hanno disertato l'incontro di partito a cui ha preso parte anche il segretario regionale annunziata che tra l'altro lancia l'out-out fuori chi si schiera contro il partito Farino intanto accusa l'ex sottosegretario dice una provocazione la richiesta di primarie. Le fratture sono se e quando ci sono sono fatte per essere ricucite. È presto per lanciare out-out mi auguro che ci sia ancora tempo per recuperare le assenze. Leo Annunziata segretario regionale dei DEM apre le trattative per il candidato sindaco del PD di Avellino ma avverte i De Cariani ieri assenti all'incontro a Via Tagliamento quando sollecitato sulla circostanza che qualcuno stia lavorando al di fuori del partito risponde non permetterò che iscritti al PD lavorino contro il partito ma questo lo vedremo solo alla fine se e quando fallirà questo tentativo di riconciliazione. Malgrado il tempo sia stretto noi stiamo per ricostituire tutte le anime del PD questa è una domanda che va andrà fatta alla fine del processo non all'inizio. Le primarie sono sempre uno strumento bisogna verificare caso per caso quando sono utili e quando no. E intanto il responsabile provinciale enti locali Stefano Farina prende apertamente posizione sul dibattito aperto per le primarie sancendo di fatto lo scontro con Umberto del Basso De Caro. Ci sono le proposte e ci sono le provocazioni è paradossale che un livello istituzionale alto sia assente in una riunione di partita da Vellino Città in via tagliamento alla presenza del segretario regionale e poi sia presente in una iniziativa dove si presenta una nuova associazione che semmai è in contrasto con il PD di cui io sono massimo esponente. C'è una contraddizione le contraddizioni sono evidente non si mascherano con richieste pretestose. Intanto incrociano le braccia i dipendenti delle agenzie delle entrate larghissima adesione allo sciopero nazionale indetto dai sindacati per rivendicare il salario accessorio. Le proteste non si fermeranno qui annunciano da Benevento i dipendenti. Cristiano Vella Hanno incrociato le braccia circa 35.000 dipendenti dell'agenzia delle entrate in Italia per rivendicare lo sblocco del salario accessorio che non gli viene riconosciuto dal 2016. Noi siamo qua per protestare stamattina contro il mancato pagamento del salario accessorio per gli anni 2016 e 2017 in quanto l'agenzia ritiene di non pagare queste due annalità a fronte di obiettivi che noi abbiamo raggiunto come lavoratori dell'agenzia delle entrate. I problemi veri sono anche altri dei carichi di lavoro insopportabili. Il tentativo è quello di privatizzare l'agenzia delle entrate con un danno alla lotta alla versione fiscale. Percentuali altissime di dipendenti al 70% in campagna dunque hanno aderito alla manifestazione indetta dai sindacati e anche a Benevento su 220 dipendenti pochissimi hanno timbrato il cartellino come hanno spiegato i sindacati. La nostra amministrazione è dal 2016 che praticamente non ci paga il salario accessorio. La misura è colma e quindi abbiamo deciso noi e con tutti i colleghi di tutti gli uffici d'Italia di iniziare questa protesta. Gli importi stiamo parlando di circa 1000 euro ogni anno. Le iniziative tuttavia non si fermeranno alla protesta di questa mattina qualora non si sbloccasse la trattativa con i vertici dell'agenzia. Non ci fermeremo fino a che non saranno riconosciuti i nostri diritti perché i dipendenti dell'agenzia sono altamente performanti. Intanto per la cronaca continuano le indagini sul duplice omicidio avvenuto a Durazzano al vaglio dei Carabinieri l'ipotesi che le due vittime fossero arrivate nel centro caudino armate. Sarà interrogato domani mattina dal GIP del Tribunale di Benevento Francesco D'Angelo il 52enne in carcere perché indiziato del duplice omicidio compiuto domenica pomeriggio a Durazzano del quale sono rimasti vittime Mario Morgillo 68 anni e suo genero Andrea Romano 49 anni entrambi casertani uccisi a colpi di fucile dopo essere scesi da una Ford Focus nei pressi di un bar e della scuola media del paese. Un delitto che rappresenterebbe secondo gli inquirenti il drammatico epilogo di un conflitto che da un anno vedeva contrapposto i D'Angelo e la famiglia Morgillo. Nell'aprile 2018 l'allora 51enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Santa Maria Vico con Gennaro Morgillo ora 31enne figlio di Mario un incidente finito al centro di una inchiesta della procura di Santa Maria Capoavetere i due si erano poi incrociati a distanza di alcuni mesi a Durazzano il centro che Gennaro Morgillo aveva scelto dopo essere stato colpito dal divieto di dimora nella provincia di Caserta lo scorso 24 marzo infine tra i due era scoppiato uno scontro all'interno di un bar una situazione di tensione sfociata domenica pomeriggio in piazza Galilei nel duplice omicidio prosegue intanto il lavoro dei carabinieri che ora dovranno chiarire ancora una serie di aspetti a partire dall'arma utilizzata dal D'Angelo dovranno poi accertare se le due vittime fossero armate o meno i militari per ora hanno sequestrato l'arma del duplice omicidio e due mazze di ferro forse in possesso delle vittime violenze e abusi sui minori ma anche il preoccupante fenomeno delle baby gang i massimi esperti ne hanno parlato oggi al Moscati di Avellino il fenomeno delle baby gang ma anche le violenze sui minori aumentano i casi in Campania ne hanno discusso questa mattina i massimi esperti presso l'ospedale Moscati di Avellino le violenze non hanno distinzione ma a quelle che avvengono negli ambienti con un livello culturale più alto è sempre più difficile accertarle ha detto il direttore del tribunale dei minori di Napoli più è alto il livello di istruzione dei componenti della famiglia più è difficile individuare e accertare l'esistenza di violenze che spesso vengono mascherate ma il fenomeno che più ci preoccupa sono le violenze che non vengono denunciate ultimamente insomma anche è capitato bambini uccisi dai genitori in più occasioni quindi è questo che ci deve spaventare di più un altro fenomeno preoccupante è quello delle baby gang oggi il fatto che i ragazzi siano sempre più spesso sui social e manchi lo spazio fisico naturalmente non li abitua agli scontri a quel punto quando la violenza esplode non sono capaci di come dire metabolizzarla reggerla l'allontanamento di un minore deve essere deciso in base a quelle che sono le prospettive di crescita che può avere questo minore e poi diciamo c'è sempre si privilegia sempre la famiglia perché comunque l'allontanamento provoca dei danni psicologici dei quali ovviamente dobbiamo tenere conto promosso dal porto turistico di Capri assieme alla marina d'arecchi di Salerno e anche al comune di Pollica per il porto turistico di Acciaroli è stato costituito il comitato promotore per la realizzazione della rete dei porti turistici campani sottoscritto dall'amministratore delegato del porto turistico di Capri Carmine Sanna anche con le funzioni di coordinatore in questa casa di fase di avviamento d'Agostino Callozzi presidente della marina d'arecchi Stefano Pisani sindaco del comune di Pollica Cacciaroli l'atto di costituzione del comitato promotore il primo step di un progetto aperto a tutti i gestori pubblici e privati di porti turistici e marine della Campania che punta a mettere in campo una strategia di sistema tra aree e mare ed area interna l'obiettivo è quello di migliorare e accentuare le dinamiche di crescita della filiera della Blue Economy incentrata sulla nautica data di porto che si integra con i forti elementi di attrazione territoriale di tutta la regione cambiamo argomento torniamo in Irpini andiamo a Solofra la marcia dei bimbi nella giornata mondiale per l'autismo autismo palloncini blu e striscioni per ribadire inclusione e soprattutto solidarietà centinaia centinaia di bambini del circolo didattico di Solofra in marcia fino a piazza San Michele nella giornata mondiale per l'autismo quasi in 500 dietro alla scritta tutti per uno ognuno con il suo palloncino blu il colore dell'autismo dalla valle dell'Irno nei giorni scorsi toccata da un riprovevole episodio di un bimbo autistico bullizzato a Montoro arriva un bel messaggio di inclusione e partecipazione per quanto riguarda Solofra in questo ultimo episodio c'è stata la disponibilità da parte del nostro ISIS che è sul nostro territorio la scuola che è sul nostro territorio e anche noi come comune abbiamo dato la disponibilità a fare la nostra parte c'è l'assistenza domiciliare qui sul nostro territorio e anche l'assistenza specialistica presso le scuole credo che nella scuola i bambini con qualsiasi tipo di problema non soltanto i bambini autistici sono ben inclusi ognuno nella propria classe i bambini li trattano in una maniera come dire pari a loro giornate come queste devono essere organizzate a mio parere perché sensibilizzano i ragazzi i bambini già da più piccoli speriamo che la sensibilizzazione arrivi anche a persone più grandi alle istituzioni e a tutti coloro che possono aiutare l'integrazione di un ragazzo turistico per quanto riguarda invece il centro di valle noi abbiamo già ribadito alla nostra posizione faremo un'opera di controllo sulla funzionalità restiamo in Irpinia una rete dei borghi in Campania per valorizzare le aree interne la proposta arriva dall'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara arrivata in visita nel borgo di Savignano Irpino valorizzazione valorizzazione dei piccoli borghi maggiori risorse per le aree interne al fine di fernare l'esodo dei giovani e questa la ricetta per uscire dall'isolamento intercettando i fondi europei è quanto ha affermato l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara in visita a Savignano Irpino è un borgo bellissimo meraviglioso ben tenuto peccato forse poco popolato ecco sarebbe interessante pensare ecco ad un progetto che possa un po' rivitalizzarlo e valorizzarlo ancora di più perché merita davvero di essere conosciuto bisogna ecco magari poter pensare a progetti tipo di alberghi diffusi o anche piccole botteghe artigianali che possano riportare ecco un po' di vitalità in questo borgo avere anche una progettualità che mette insieme ecco i vari borghi e creare una rete che valorizzi le aree interne in modo tale che si creino anche dei percorsi turistici che permettano ecco di visitare e valorizzare i borghi quantomeno limitrofi a far agli onori di casa il sindaco di Savignano e Orpino Fabio Della Marra era doveroso accoglierla era doveroso scambiare con lei delle relazioni e questo è a prescindere dai colori che uno indossa perché per noi piccoli comuni la necessità del confronto la necessità della conoscenza va al di sopra di ogni casacca se così la vogliamo definire visto che stiamo in un periodo elettorale per tutti da parte mia è tutto il Tg finisce qui grazie ad Aldo Fenizia in regia vi lascio al meteo poi al Tg Sport con Marco Festa il Tg Sport il Tg Sport Grazie a tutti.